gentili telespettatori buona giornata domani si vota per eleggere il presidente della repubblica ma come si vota il presidente della repubblica è eletto dal parlamento in seduta comune dai componenti della camera dei deputati del senato della repubblica con la partecipazione dei delegati eletti dai consigli regionali ogni consiglio regionale elegge tre delegati in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze la val d'aosta ha un solo delegato quindi 630 persone nella camera dei deputati 315 senatori 58 provenienti dalle regioni tre per ogni regione solo uno per la val d'aosta e poi ci sono i sei senatori a vita che non si sa se poi parteciperanno o no il numero totale di elettori del parlamento in seduta comune è mille e nove persone alla prima votazione alle prime tre votazioni si arriva con una maggioranza di due terzi del parlamento quindi per i primi tre scrutini richiesta la maggioranza di due terzi dell'assemblea 673 dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta 505 la convocazione in seduta comune del parlamento e dei delegati regionali per eleggere il nuovo presidente della repubblica è effettuata 30 giorni prima che scada il termine del suo mandato la convocazione effettuata dal presidente della camera dei deputati se le camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione l'elezione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle camere nuove nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente in carica il presidente e l'ufficio di presidenza del parlamento in seduta comune sono quelli della camera dei deputati articolo 63 secondo comma quando il parlamento si riunisce in seduta comune si applica il regolamento della camera dei deputati l'elezione ha luogo per scrutinio segreto il presidente della repubblica prima di assumere le sue funzioni presta giuramento di fedeltà alla repubblica e di osservanza della costituzione dinanzi al parlamento in seduta comune c'è il i catafalchi e c'è l'insalatiera i catafalchi tradizionalmente i parlamentari chiamati in ordine alfabetico dal presidente della camera sfilano sotto le quattro cabine elettorali chiamate catafalchi montate tra il banco della presidenza e quella del governo ma quest'anno causa pandemia i catafalchi non ci saranno cos'è l'insalatiera dopo il voto ciascuno ripone la scheda elettorale nell'urna posta all'uscita del catafalco detta anche insalatiera si chiama così perché realizzata in vimini con decori dorati e rivestita nella parte interna da raso color verde acido l'insalatiera queste sono è l'elezione del di come avviene l'elezione del presidente della repubblica se non c'è un accordo entro il 3 di febbraio si rimane senza presidente della repubblica senza trovare un accordo quindi l'accordo potrebbe avvenire prima del 3 di febbraio o dopo il 3 di febbraio intanto abbiamo visto così l'elezione del presidente della repubblica ma vi racconto che attualmente i due schieramenti sono nel caos due schieramenti nel caos che potrebbero portare draghi nuovamente con l'ipotesi di finire al colle perché senza accordo muro contro muro nessuno dei due schieramenti ha i 505 voti sufficienti per eleggere il presidente della repubblica e anche se li avesse sulla carta poi andrebbero verificati in parlamento perché una cosa è dire di averli poi ci sono i franchi tiratori quelli che nel segreto dell'urna poi votano per qualcun altro quindi anche ammesso che uno dei due avesse 505 510 voti probabilmente non sarebbero sufficienti perché c'è sempre qualcuno che vota in maniera differente visto che poi il voto è segreto e nessuno può sapere quello che hanno votato i vari parlamentari alla fine con una trattativa così difficile dove il centro-sinistra non vorrà eleggere nessuno di centro-destra e nel centro-destra non vorranno eleggere nessuna proposta del centro-sinistra probabilmente finiremo per doverci appellare al premier dicono dai palazzi appellarsi al premier far finire draghi al quirinale ora che berlusconi ha fatto un passo indietro cade anche l'alibi dietro cui per settimane si sono nascosti i suoi avversari ma anche i suoi alleati ora si capirà se c'è un centro-sinistra solido che profondi che manifesta poi profonde crepe nella coalizione e nei partiti di cui si compone e si vedrà quale capacità manovriera avrà il centro-destra nel proporsi come kingmaker del prossimo capo dello stato io non vedo questa capacità del centro-destra però poi soprattutto adesso che ha in mano questo ruolo salvini perché se l'è dato da solo vedremo realmente che cosa in realtà dietro berlusconi per ora non c'è nulla non c'è traccia di un accorto bipartisan sul quirinale sul governo sulla legge elettorale ieri sera non aveva fatto a tempo berlusconi ad annunciare il suo ritiro che al vertice dell'alleanza si è aperto il conflitto sulla durata della legislatura salvini non aveva neppure finito di aprire formalmente il tavolo sulla trattativa con la controparte che letta lo ha accolto con un siete divisi manco fosse già partita la campagna elettorale chissà se è proprio questo l'obiettivo del segretario dem letta e di conte leader grillino andare realmente alle elezioni e cominciare con la campagna elettorale bene io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti siamo poi anche in facebook nella pagina tele italia dove trovate i video di due canali tele italia tele italia seconda rete condivisi dopo qualche ora grazie nuovamente e ci vediamo presto ricordatevi che nella community qua ci sono sondaggi ai quali poter partecipare e link che vi rimandano ad altri video su tele italia seconda rete e altre notizie arrivederci e grazie nuovamente